Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro Dark House 92 Questo è un video molto particolare Aiaia Molto particolare perchè praticamente Oltre a non essere editato Anche perchè posso stare davvero poco al computer E vi parlerò di questa tra virgolette malattia Che poi alla fin fine non penso sia una malattia Ma sia una sorta di infezione Viene chiamata questo problema che ho All'orecchio sinistro ovviamente Viene chiamato otite emorragica bollosa L'otite è un'infiammazione molto fastidiosa dell'orecchio Che purtroppo colpisce spesso i bambini Infatti io non è che sono un bambino Provocando loro dolori molto forti alle orecchie E che può degenerare in modo pericoloso Se non curato a dovere Io ovviamente vi sto leggendo Sulla wiki cosa significa Conosciuta come l'otite bollosa Va a colpire la membrana del timpano E alle volte arriva a coinvolgere anche la cute del terzo mediale Del condotto uditivo esterno Ciò significa Che praticamente si crea una sorta di bolla Una roba del genere Dentro l'orecchio Che quando va a scoppiare Sentite quel dolore Ma una roba assurda regalo Io veramente Spero che non mi venga mai una cosa del genere Perché Vedete io per esempio Ho messo Un pezzo di cotone Qui Per non far passare aria Oppure acqua Quando mi faccio la doccia E' chiamata bollosa Perché si presenta con delle piccole vescicole Che possono avere un contenuto Sia ematico Che siero ematico Regà veramente io Grazie a questo problema Non riesco a fare live Cioè nel senso Potrei fare anche le live Però Non potrei parlare più di tanto Perché Quando parlo troppo Mi fa male tutta questa parte Allora Dato che comunque Sapete già che Quando uno vuoi live Deve intrattenere Comunque deve parlare Leggere la chat Tutte queste cose qui Oddio mio Automaticamente Non può stare tanto zitto Comunque Niente regà Che vedevo di Questo è quello che ho L'otite Morragica bollosa Io non Oggi dovrei andare A visita Dallo Torino Per chi non lo sapesse Lo Torino E' quello che Tratta appunto Queste cose Una sorta di Cioè una sorta Un medico Che tratta di queste cose Quindi di otite Cioè di questo problema Di questi problemi qua E niente Tutto qua Regà Io non Cioè Qua dice Spesso invece associata A danni all'orecchio interno Con relativa Perdita dell'udito Cioè Bum Vabbè Comunque Tralasciando questo Ragazzoli Io Veramente Mi scuso Infinitamente Con voi Perché so che Molti di voi Volevano vedere Live Volevano vedere Qualche video E questo Non è successo Anche per il semplice fatto Che come vi ho già detto Non posso parlare Io Regà Potrei fare la live Anzi Fatemi sapere Se magari stasera Vorrete una live Però Non posso parlare Per tanto tempo Regà Cioè E Posso sì parlare Ma non per molto tempo Perché Quando io vado a parlare Per tanto tempo Mi prende tutto il dolore Quindi E' proprio qua Tutto Fino qua sotto Da qua Fino qua E non riesco Assolutamente A continuare Cioè Io Pensate che Ho aperto Fortnite In questi giorni Che non sono Stato in live O non ho registrato Video Vedete Anche adesso Che sto parlando Molto Fa male un casino E Perché praticamente Cioè Ho aperto Fortnite Solo Esclusivamente Ho giocato Solo Quanto Tre ore Quattro ore Massimo Ma solo Perché ho fatto Il torneo Con un amico Ma basta Poi Dopo di quello Chiuso Cioè Non riesco A giocare Per molto tempo Al computer Con questo problema Perché Non posso Interagire Con amici Non posso Parlare Con amici E tutte Ste robe Qui E quindi Non riesco Per parlare Devo concludere Il video E niente Che vi devo dire Fatemi sapere In chat Eh si In chat Fatemi sapere Nei commenti E niente Vi voglio bene Ragazzoli Scusatemi Purtroppo Non è colpa mia Anzi si È colpa mia Per se Mi è successa Questa cosa Il problema Il problema È Che sono Uscito Di casa Ma sono Uscito Di casa A pantaloncini In magliette corte E quindi Con il troppo Vento Che c'era Ahimè Mi è successo Questo Vi voglio bene Ragazzoli Scusatemi Se non ho editato Il video E che purtroppo Non posso Rimanere Per tanto tempo Davanti al pc Mi voglio bene Ragazzi ancora Un bacione a tutti Ci vediamo presto Spero Bella